Ecco come si presentava fino a poche ore fa parte dell'area PIP di Taurana, tra San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino e Angri. 18 mesi di assenza totale da parte dei vertici uscenti della Stu che hanno creato non pochi disagi agli imprenditori ma soprattutto agli abitanti della zona. È un disastro completo, siamo stati abbandonati completamente nel modo più assoluto, non credo che questa sia una civiltà, non potrebbero passare i cami, quei container li atterra così, non ci sono nessuna tutela, nessuna norma di sicurezza. Ma nell'ultimo anno ha mai visto qualcuno della società che è venuto, li ha chiesto magari nonostante i vostri continui solleciti suoi e quelli dei cittadini della zona? Assolutamente, assenteismo completo, assolutamente, mai nessuno ho visto e tantomeno ho chiesto di parlare con qualche responsabile, si sono sempre fatto negare. Sul posto per una prima verifica, per fare una prima ricognizione dei danni e dello stato dei lavori, il neo amministratore delegato di Agroinvest Genioso Zollo, accompagnato nella sua duplice veste di consigliere provinciale delegato di Agroinvest Pasquale Mauri, che non nasconde il suo disappunto per la cattiva gestione dell'Astu negli ultimi 18 mesi. La cosa grave è che il vecchio amministratore si vantava di aver affrontato e risolto i problemi e sotto gli occhi di tutti che neanche le regole più elementari sono state rispettate. Un PIP abbandonato e ha inaugurato un tratto che oggi è di nuovo chiuso, solo per apparire. Noi invece vogliamo essere, vogliamo dare le risposte ai bisogni della città, stamattina siamo qui presenti, io e l'amministratore delegato, l'ingegnere capo della struttura per dare risposta ai cittadini, in primisio quella di rendere operativa questa strada per evitare i disagi che questa popolazione sta vivendo. Quindi noi siamo impegnati in prima persona affinché tutto possa essere risolto nel giro di pochi giorni, perché noi vogliamo essere vicino ai bisogni della collettività, noi vogliamo essere vicino ai bisogni degli imprenditori e quindi anche con la presenza fisica, conoscendo i problemi è possibile risolverli e dare risposte immediate. Oneri di urbanizzazione primaria, istanze dei residenti, è una mappatura dei problemi infrastrutturali tra le prime verifiche fatte dall'amministratore delegato Genioso Zollo. L'intenzione mia è quella di fare sovralogo in tutte le aree, destinatari dei tre PIP che stiamo seguendo. Sto aspettando però un resoconto dell'ufficio tecnico per muovermi in maniera precisa sui punti dove sono state evidenziate le problematiche. Qui ci hanno evidenziato una necessità di intervenire in fretta per risolvere un problema di vivibilità di alcuni cittadini della zona. Ho fatto un sovralogo insieme al consigliere Mauri, insieme al responsabile del procedimento tecnico di Agroinvest, ingegnere russo, e abbiamo ipotizzato le soluzioni. Pensiamo forse di aprire un pezzo di strada per evitare il passaggio di questi camion da quella stradina che tanti disagi sta creando a tutti.